affrontiamo questa espressione con i numeri relativi dove abbiamo sia addizioni sia sottrazioni con numeri relativi da cosa iniziamo al solito che comanda sono le parentesi iniziamo dagli calcoli dentro le parentesi sonde quindi svolgerò questo calcolo questo calcolo e tutto questo calcolo il resto lo riscrivo tale quale iniziamo con l'uguale meno 10 più 17 fa 7 tolgo la parentesi e ci metto più 7 per ricordarmi che questo è il risultato è un numero positivo meno aperta quadra 4 meno 7 meno li riscrivo e 10 meno 7 fa 3 quindi più 3 meno 3 più 13 chiusa quadra meno aperta quadra meno aperta sonda 7 meno 5 2 più 1 più 3 chiusa quadra più 2 ora cosa andrò a svolgere dovrò togliere le sonde che mi sono rimaste quindi questa è questa è questa è questa che mi accorgo di non aver chiuso che succede davanti a tutte e due c'è il meno cosa fa il meno in algebra cambia il segno del valore che viene dopo quindi dovrò cambiare il segno per togliere le parentesi uguale più 7 meno aperta quadra 4 meno 7 meno più 3 più 3 diventa meno 3 meno 3 più 13 chiusa quadra meno aperta quadra meno più 3 questo più 3 diventa meno 3 chiusa quadra più 2 uguale cosa andrò a svolgere adesso i calcoli dentro le due quadri tutti questi calcoli qui di qua dovrò solo togliere la quadra perché il risultato è già meno 3 fuori c'è ancora una volta meno valgono le stesse considerazioni fatte prima uguale più 7 meno aperta quadra 4 meno 7 meno 3 meno 3 6 meno 3 9 meno 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 9 meno 9 più 13 fa più 4 meno 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 3 il meno davanti alla parentesi cambia il segno di che viene dopo quindi quel meno 3 diventa più 3 più 2 più 2 uguale adesso cosa devo fare devo togliere questa parentesi quadra quindi uguale più 7 meno più 4 il meno davanti alla parentesi cambia il segno del più 4 diventa meno 4 più 3 più 2 uguale adesso terminerò l'espressione svolgendo gli ultimi calcoli uguale più 7 meno 4 più 3 più 3 6 più 2 più 8 e ho terminato così questa espressione grazie